Non si può pensare ad una ripresa del Paese senza una crescita del mezzogiorno. L'Italia ce la farà tutta intera o non ce la farà. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha replicato al collega del Veneto, il Governatore Luca Zaia, che sta inaugurando la nuova linea di opposizione della Lega, ha detto De Filippo, nel peggiore dei modi, tirando il Presidente del Consiglio incaricato Monti per la giacchetta e ripetendo le solite offensive dichiarazioni che separano il Paese. Purtroppo si conferma alla regola che chi sa fare opera e chi non sa fare ha pretesa di dar lezioni, ha spiegato bene De Filippo, e i limiti della lezione che Zaia intende dare a Monti sono testimoniati dal fatto che crede possibile una ripresa del Paese senza una crescita del mezzogiorno. Se il Sud non cresce, il Paese non può riprendersi, ha ribadito De Filippo. Questo concetto era ben chiaro anche al Governo uscente. Il Piano Sud e le iniziative sull'utilizzo dei fondi FAS sono state fatte in modo concertato dalle regioni meridionali e dal Ministro Fitto.